Beatrice Borromeo incinta, primo red carpe con il pancino a fianco a Pierre Casiraghi forme dolcemente arrotondate, stilosa e bellissima come sempre, la più bella delle conferme arriva al ballo della rosa Beatrice Borromeo. È incinta per la seconda volta e mostra il suo pancino sfilando sul red carpe con il marito Pierre Casiraghi al tradizionale ballo della rosa, l'appuntamento più gleme del principato di Monaco, dove la cognata Charlotte conferma di andare veloce verso il matrimonio con Dimitri Rassam e Caroline, bellissima e rosa, accompagnata dall'amico Karl Lagerfeld, lascia spazio alle nuove generazioni. Guarda che spettacolo la sua remonegasca, Gia, al settimo mese Beatrice indossa un abito lungo e nero in taffeta con decorazioni creato per lei da Alberta Ferretti. Il tema della serata di quest'anno è manata nella contessa giornalista, con i lineamenti dolcemente arrotondati, lo interpreta a modo suo, confermando la nuova gravidanza. Che essere anche molto avanzata, si dice addirittura già al settimo mese. Stefano a un anno, solo un anno dalla nascita di Stefano il primo genito ha spento la sua prima candelina il 28 febbraio il fratellino o la sorellina è già in viaggio. Ma la stanchezza si fa sentire, la moglie di Pierre ha lasciato il ball della rose subito dopo la fine della tombo. .